Tradizione, cultura, scambi commerciali, ma soprattutto la possibilità per i giovani studenti di origine piemontese di svolgere tirocini e stage formativi nelle aziende e nei distretti produttivi del Piemonte. Riparte da qui la collaborazione tra il Consiglio regionale e la Federazione delle Associazioni Piemontesi d'Argentina, in Italia per porre le basi per nuove forme di parternariato e ricevuta a Palazzo Lascaris dal Presidente dell'Assemblea regionale Stefano Allasia. Opportuno, ha spiegato il Presidente di FAPA e Delvio Sandrone, favorire i gemellaggi tra comuni piemontesi e argentini e promuovere l'insegnamento dell'italiano e del piemontese tra le giovani generazioni, ultime discendenti degli immigrati di inizio novecento. Ma soprattutto far conoscere che cosa è oggi il Piemonte con le sue eccellenze e peculiarità, aprendo le porte a chi, dall'Argentina, vuole completare il suo percorso di studi con un'esperienza professionale, un'eventualità possibile anche con il coinvolgimento delle unioni industriali e delle associazioni di categoria. È assolutamente fattibile, è interessante le progettualità che sono state sottoposte dalla Presidenza del Consiglio, indubbiamente anche come alla Giunta regionale con la presenza del Vice Governatore Fabio Carosso, con l'intento effettivamente di portare dei piemontesi, di giovani piemontesi, argentini e del mondo in Piemonte a lavorare sul nostro territorio. La fattibilità è puntuale, sicuramente faremo il possibile per cercare di portare compiuto con le progettualità che la FAPA sta portando avanti da tanti anni che sono state inascoltate fino ad oggi. I ragazzi del futuro del mondo, noi vorremmo che vengano al Piemonte, che vengano a Piemonte, che vengano a Torino o a qualche posto del Piemonte, che vengano al Piemonte a sentire, noi vorremmo portare il turismo argentino nella nostra zona al Piemonte, all'interno del Piemonte, perché il Piemonte ha molte cose bellissime per mostrare al mondo. Sono più di 4 milioni gli argentini di origine piemontese, molti in possesso della doppia cittadinanza. Ogni anno la FAPA, che raggruppa 62 associazioni di piemontesi d'Argentina, organizza un congresso nazionale. Il prossimo si terrà dal 17 al 19 aprile 2020 a San Francisco, città di 60.000 abitanti della provincia di Cordoba, un appuntamento al quale parteciperà per la prima volta anche una delegazione del Consiglio regionale.